Buonasera a tutti, abbiamo pensato a una mostra che raccontasse le storie di Valcolana al plurale. Abbiamo capito che la chiave era il racconto delle storie di tante persone, di decine, centinaia, migliaia di persone che hanno scritto pagine importanti della Valcolana. Allora abbiamo voluto rendere omaggio a tutti coloro che hanno partecipato alla Valcolana con questa mostra C'ero Anch'io. Grazie a tutti.